Con l'inno di Mameli, suonato dall'orchestra dei giovani studenti Erasmus, è entrata nel vivo Didacta Italia, la fiera su educazione, formazione e istruzione, che per tre giorni animerà gli spazi della Fortezza da Basso di Firenze, con 4.000 docenti iscritti da tutto il paese, 90 workshop e 150 espositori nazionali ed esteri. Per l'inaugurazione di Didacta, presente anche il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli, che dopo un tour tra gli stand dell'evento dedicato alla scuola, ha firmato insieme all'assessore regionale all'istruzione Cristina Griaco, un accordo di collaborazione tra regione e ministero nell'ambito del piano nazionale per una scuola digitale. Sono protocolli che stiamo facendo per implementare e attuare in modo molto più esteso, anche qui in tutte le scuole italiane, esattamente il piano nazionale scuola digitale. Quindi ci sono impegni sia del ministero, ovviamente, perché noi l'abbiamo fatto, sia della regione toscana che se l'assume proprio per connettere tutte le scuole e ovviamente arrivare in modo più celere anche ai contenuti, alla cultura del digitale. Il lavoro che ha fatto il ministero in questi ultimi anni è importantissimo, le scuole si stanno trasformando e non è solo una trasformazione che deve essere sull'hardware, quindi lavagne piuttosto che computer, piuttosto che device portati dai ragazzi. È un'innovazione che deve riguardare anche tutto il processo di insegnamento-apprendimento. Didacta è quindi una fiera che vuole essere un luogo d'incontro, un evento formativo dove gli insegnanti possono apprendere le tendenze innovative della didattica. E nello stand della regione toscana, realizzato grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, studenti e insegnanti hanno presentato proprio i loro progetti più innovativi, tra stampanti 3D, robot per i più piccoli e quelli che aiutano nell'apprendimento i bimbi con disabilità. Presenti anche gli studenti degli istituti alberghieri e agrari toscani che hanno organizzato degustazioni e presentato i loro prodotti. Un modo per valorizzare il modello toscano di istruzione e le sue buone pratiche. Grazie. 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 Grazie.